Ed ecco un primo indicato per tutti. Leggero, versate in una padella antederente due cucchiai di olio evo. Aggiungete gli asparagi, ponete sul fuoco a fiamma dolce, girate di tanto in tanto e coprite con un coperchio. Aggiungete i pomodorini che avete ben lavato, più il sale e il prezzemolo. Allungate con un pochino di acqua per ammorbidire di più i pomodorini mescolate, eccoci qua, quasi pronto, velocissimo nella realizzazione. Vedete un po' di sale in una pentola sul fuoco. Eccoci qua, quasi pronto questo sughetto. Versate le fettuccine, eccoci. Allungate se volete con un pochino di acqua. Eccole pronte, mescolate il tutto, fate amalgamare bene le fettuccine al sughetto. Guardate che spettacolo. Dice proprio mangiami, mangiami. Eccoci pronti per poterlo impiattare. Eccolo qua, pronto per essere gustato. Potete aggiungere, se volete, del parmigiano reggiano e dei piccoli soffettini di prezzemolo. Troppo, troppo buono. Un piatto unico e leggero. Buon appetito da Monica. Un piatto unico e leggero.